Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in cucina con Raffi alla grande. Ragazzi oggi andrò a fare un buonissimo salame al cioccolato bianco senza uova. Partiamo subito con i nostri ingredienti. Come già vedete in questo mix che dobbiamo andare a tritare ci ho messo 250 grammi di bastoncini ripieni al cocco. Se non trovate questi bastoncini ripieni al cocco potete anche mettere i wafer alla vaniglia. Allora incominciamo a tritare il tutto. Una volta tritato il tutto andiamo a inserire 100 grammi di mandorle pelate e continuiamo a tritare. Allora una volta tritati anche le mandorle, ovviamente non le ho tritate ultimamente, le ho lasciate leggermente un po' grossicelle perché si deve sentire in bocca la mandorla. Andiamo a inserire 50 grammi di zucchero a velo e giriamo. Ebbene una volta che abbiamo inserito anche lo zucchero a velo andiamo a inserire 200 grammi di yogurt. Io in questo caso lo avevo al caffè e lo sto inserendo al caffè. Però voi se trovate i wafer alla vaniglia potete anche mettere quella alla vaniglia. Oppure se trovate i bastoncini come quelli che ho messo io al cocco potete inserire lo yogurt al cocco. Una volta che abbiamo amalgamato il tutto andiamo a inserire 250 grammi di cioccolato bianco che io ho sciolto a bagnomaria. Amalgamiamo sempre il tutto. Una volta che abbiamo inserito il nostro cioccolato bianco come vedete abbiamo fatto un composto, giusto? Adesso ho preso un pezzo di stagnula, dobbiamo andare a inserire il nostro composto dentro e farlo diventare tipo un salame. Allora una volta che abbiamo formato il nostro salame lo mettiamo nel congelatore per un'oretta, intanto che il nostro cioccolato bianco si induresce e poi possiamo uscire il tutto. Ebbene ragazzi siamo arrivati al momento dell'assaggio, ovviamente noi l'abbiamo già assaggiato per dirvi la verità. Comunque è stata una congelatura un'oretta ed è venuto in questo mudo. Ci ho messo un tocco di colore, degli smazzis al cioccolato colorati. Beh spero tanto che voi lo facciate perché è veramente ottimo questo salame al cioccolato bianco. Mi raccomando spolliciamo la grande, mi raccomando iscrivetevi sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!